Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa sera avremo con noi Mario Criscuolo, allevamento dei nobili Visconti di Modrone. Mario si trova in questo momento a Vicenza, precisamente ad Agugliaro, in Veneto, ma è nato a Castellammare di Stabia il 13-11 del 1970. Nel 2000 prende il primo Bracco Italiano, si appassiona alla razza, era già un cacciatore come ci racconterà lui, e nel 2018 poi decide di prendere l'affresso in società con Carolina Pirlo. Attualmente si occupa di ristorazione lì in Veneto e questa sera ha accettato il nostro invito e faremo una chiacchierata sul Bracco Italiano, su quello che è il suo allevamento e vedremo un po' cosa pensa della nostra razza. Io invito tutti come al solito ad entrare, invito chi ci sta guardando in diretta, per chi non l'avesse già fatto, di lasciare il like a quella che è la pagina Facebook, mentre invece chi ci sta guardando in differita, chi ci guarderà in differita, lasciare il like su YouTube e l'iscrizione anche al nostro canale. Quindi inizieremo la nostra intervista tra pochi minuti e volevo dirvi giusto qualche comunicazione. Questo giovedì dovremmo avere la puntata, dovremmo riprendere le puntate mediche con i professionisti veterinari che avevamo già iniziato qualche settimana fa e poi settimana prossima vediamo un po', come ho detto l'altra volta, se non dovessi farcela a organizzare con un ospite, iniziamo la discussione dello standard del 12. Claudio e del Dubiani che ho sentito, insomma mi ha dato il permesso per commentare quello che è stato il suo lavoro, eccellente, che chi ancora non l'avesse visto consiglio di andare a visualizzare, disponibile sul sito della Sabi, alla voce standard ci sta comunque uno degli ultimi documenti che sono stati pubblicati, potete vedere le precisazioni dello standard del 12. Claudio e del Dubiani. Allora, io direi che siamo pronti, possiamo iniziare, manca un minuto, però insomma possiamo... Mario è pronto, quindi lo invito ad entrare. Mario buonasera e benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a te, un saluto a te e a tutti gli amici che ci seguono. che stanno aumentando e confido che aumenteranno nel corso della nostra discussione. Però parto subito con la prima domanda e ti chiedo quindi come è nata la passione per il bracco italiano per te. Ah, bene. Allora io nel 2000, nell'anno 2000, ero il primo anno che andavo a caccia, no? Racconto questa sintesi breve. In realtà avevo un bracco tedesco, un bracco tedesco che avevo preso da un amico, no? E quando andavo a caccia la mattina in realtà questo bracco tedesco mi dovevo legare alla gabbia perché quando gli mettevo il guinzaglio mi tirava via, no? Un cane pazzo. Quando lo liberavo sul terreno volava, faceva chilometri, per riprenderlo ci mettevo tempo, no? E che mi ero un po' scocciato di questi cani che comunque non erano, come le ho chiesto a un amico, dico senti un po', ma vorrei una razza di cane da divertirmi, no? Perché io il bracco italiano non lo conoscevo neanche minimamente. Fa lui, dice guarda c'è un amico che ha un cane da perniere, un cane bello, lo conosci il bracco italiano? Dico no. Dice ma va là che lui è anziano, te lo regala, no? E così decido di prendere questo bracco italiano. E mi ricordo benissimo che il primo giorno di caccia, dopo che avevamo fatto amicizia una decina di giorni, porto a caccia e vado a caccia con mio fratello. E mio fratello è il cacciatore dei setter, no? Entriamo in questa riserva, partiamo con i cani, mio fratello con i setter cacciava dappertutto e sto bracco italiano mi camminava di fianco. Dico mezz'ora, un'ora. E il bracco italiano sempre che mi camminava di fianco, no? A un certo punto dico guarda, mi sto stufando, mi sto scocciando, continuo a camminare tanto. Lo accarezzavo per compagnia, no? Dico continuo a camminare. All'improvviso sto bracco italiano, tum, fa una ferma. Oh, ho detto, cosa c'è sto cane, no? Fuori di tesa, no? Mi fa una ferma in un fosso pieno di canne nella zona del Mezzano, a Ferrara. Comunque, dopo di che mi fa una guidata di 20-25 metri, proprio rimango alibito per questa cosa, no? E dopo entra dentro queste canne e mi svolazzo il fagiano, no? Gli sparo, mi cade il fagiano in un laghetto di acqua, parte, si tuffa in acqua, mi fa un recupero, me lo porta ai miei piedi, si inginocchia e mi porta il fagiano in mano, no? E da lì, non ti dico, comincia, parte sto cane, comincia ad allargare benissimo, un trotto con dei galoppi stupenti, 150 metri, 200 metri sto cane comincia ad andare e mi ricordo benissimo che mentre non faceva niente ho fatto 6 o 7 fagiani quella mattina, no? E sono rimasto talmente flashato da questo cane, da questa razza e da lì mi sono innamorato subito. Ecco, un po' la sintesi del Bracco Italiano. Tu poi hai partecipato a prove di lavoro, esposizioni, hai iniziato la carriera agonistica oppure... Guarda, io no, perché io ho un lavoro che mi impegna 365 giorni all'anno, no? Nonostante ho questa passione per il Bracco Italiano, non sono mai riuscito a coltivare queste manifestazioni qua. Qualche volta, che poi io quest'anno, nel 2018, diciamo che ho creato un affisso insieme alla Carolina Piero, allora mi sono un po' affacciato in questo mondo, no? Però io dal 2000 al 2018 ho fatto i cani solamente per passione di calcia e per terreno, l'ho guardato sempre sul terreno. Ok. Mario, senti, con chi è legato di più in questi anni di Bracco Pilia e con chi ti confronti attualmente? Allora, io ho tantissime conoscenze, perché poi la passione era tanta, allora sai, in Veneto soprattutto qui ho conosciuto tantissime. Con chi mi sono confrontato qualche volta telefonicamente, perché ribadisco, io ho tempi stretti, cioè purtroppo non ho mai tempo. Mi confronto sempre con il dottor Mele, Giorgio Mele, che mi ha dato un cane e poi ne pallerò, e adesso ultimamente con la Piero, la mia socia, con la Carolina Piero. Ok. Ma ti sei documentato prima di acquistare, di prendere il primo cane, di avvicinarti alla razza, o hai semplicemente seguito l'istinto, ma ti ha detto, proviamo, insomma? No, guarda, è stato solamente un istinto sul consiglio di un amico, come ti dicevo prima, poi dopo ovviamente mi sono innamorato di questa razza, ho cercato comunque di migliorarla, no? Di migliorarla, di trovare il cane migliore, il cane forte, perché il Bracco Italiano comunque mi ha trasmesso, cioè come prima esperienza, io ho trovato in questo cane un cane che non ha paura di niente, un cane che non gli fa paura niente, né nero, né rovi, né pungitopi, no? Quindi essendo un po' io di carattere, io sono uno scoppione, carattere forte, testardo, io ho sempre cercato un cane che avesse il carattere peggio di me, non più debole di me, e l'ho trovato nel Bracco Italiano, però peggio ma con cervello, perché ho avuto veramente dei Bracco Italiano che usano il cervello, capisci? Non il Bracco Tedesco che ho avuto dei soggetti pazzi, realmente pazzi, allora quindi ecco un po' la sintesi di tutto. Ecco appunto, parlando di quelli che possono essere i difetti della nostra razza o problemi, secondo te quali sono? Cos'hai riscontrato? Sì, in questi anni ho riscontrato problemi di pelle, problemi al posteriore, alle gambe, soprattutto quello è il problema del Bracco Italiano. Poi qualche altro piccolo accorgimento, ma per gli allevatori che hanno Bracco Italiano sicuramente sanno benissimo che i problemi sono le dermatiti, i calli e i posteriori, il posteriore, i piedi, i piedi del Bracco. Ok, quindi tu parli di difetti di accrescimento scheletrico, a piombo, questa roba qui. Poi il Bracco Italiano, per me il Bracco Italiano deve essere un cane strutturato, un cane forte, no? Quindi io posso dirti che in base alla mia esperienza se è un cane piccolo, che rimane piccolo, che non rispetta la morfologia di un Bracco Italiano, io lo ritengo un difetto, ognuno la vede in modo suo, no? È un cane che non monta, che non copre, io lo ritengo un difetto, capisci? Però, sai, parlare di Bracco Italiano per me mezz'ora è difficile, di Bracco Italiano ci sarebbe tanto per dire, no? E ognuno poi ha le sue idee e si comporta in base a quello che pensa. Ok, parlando di riproduzione, invece, come avvengono gli accoppiamenti? Cioè, come pensate gli accoppiamenti nel vostro allevamento? Allora, io l'accoppiamento mio ideale per la mia mentalità, io guardo i cani, studio i cani sul terreno, soprattutto. Perché io penso che da due cani che danno... Cioè, un cane su un terreno cosa deve fare? Deve spaziare. La presa di punto deve essere importante. La ferma deve essere bella, da Bracco Italiano. Poi tanta gente dice, beh, ma io guardo il Bracco Italiano che trotta. Io invece dico, guarda, il Bracco Italiano galoppa, trotta, corre. Per me, quindi, ho una mentalità mia da Bracco Italiano che mi sono fatto in questi anni di cazzo. Quindi io l'accoppiamento lo seleziono sempre guardando i soggetti sul terreno. Ovviamente poi vado a guardare il piede gripe, la consanguinità, oppure per i problemi che potrebbero esserci come cute, come problemi genetici, no? In realtà. Però diciamo che principalmente io guardo i cani sul terreno. Io penso che da due cani buoni viene fuori qualcosa di buono. Da due cani che non valgono niente non viene fuori niente. Va bene. Mario, e invece secondo te è possibile ottenere soggetti belli e bravi? Questa è una domanda da cento e l'oro. Però, guarda, io ho avuto soggetti belli e non tanto bravi. Ho avuto soggetti bravi e non tanto belli. Infatti, diciamo, la mia collaborazione con la Piro, con la Carolina Piro, è stata quella di migliorare il mio lavoro, che comunque avevo cani che andavano fortissimo, anche con un po' con la bellezza, no? Attualmente, secondo le mie idee, qualche soggetto belli e bravo ce l'ho. Però è difficile, molto difficile. Ok. Secondo te, qual è la regione della struttura del corpo del bracco italiano a cui dai maggiore importanza nella tua selezione morfologica? Allora, io sento, io sento tanto sul bracco italiano. Il bracco italiano, ovviamente, parliamo della testa. La testa è importantissima, ma è importante. E la testa, comunque, fa scena quando tutto il tronco di un bracco italiano è bello, è perfetto, no? Quindi, diciamo che la testa ha una bellissima importanza, perché se abbiamo un tronco di un cane e poi non c'è testa, non abbiamo niente di bracco italiano, no? Ma come se un bracco italiano ha testa e poi non ha una struttura bella da bracco italiano, penso che anche lì abbiamo poco, capisci? Quindi, io direi un 50-50, capisci? Per bilanciare corpo e testa. Ok. Quali sono i risultati che avete ottenuto insieme a Carolina con il vostro affisso negli eventi, insomma? Beh, allora, teniamo conto che noi l'affisso l'abbiamo fatto nel 2018, l'abbiamo creato questa società del nostro affisso, no? Abbiamo avuto quattro campioni italiani di bellezza dal 2018 al 2021, tre campioni italiani internazionali di bellezza, poi un campione internazionale in Expo, due campioni di lavoro e due campioni di lavoro assoluto. Questi sono i nostri risultati. Ok. Che tipo di... Qual è il cane più importante che ti è rimasto impresso nella memoria o se è ancora in vita, insomma, qual è il reputi il cane più importante che hai avuto tra le mani? Allora, il cane... Sono due, due cani che mi hanno segnato proprio, sai, quel prototipo che ha qualcosa in più di fronte agli altri. Uno non è più in vita, era figlio di Agamemnon e di Cascina Croce, che l'avevo preso dall'allevamento di Campomulo, di Antonio di Campomulo, si chiamava Barone. Lui, questo cane, comunque in esposizione, è diventato campione italiano di bellezza. Sul lavoro poi io non pratico purtroppo, non riesco a praticare, ma sul terreno di caccia sto cane era un mostro, cioè un cane che quando partiva lui galoppava, no? Ecco perché prima ti ho detto, per me il bracco italiano, non è solo il bracco italiano che mettiamo sul terreno e che trotta, per me il bracco italiano galoppa, trotta, trotta in diversi modi, forre, però per non annoiarti tanto diciamo che questo bracco italiano sul terreno faceva roba spaventosa, nei boschi a beccaccia, nelle zone di potenza, no? E' un cane che usava la testa, un cane che sapeva già dove andare. Delle ferme, delle guidate da 30 metri, delle spaziate 200-250 metri, ma comunque non mi perdeva mai sott'occhio, mai. ferme, ferme e incredibili, che lui su una ferma rigida ogni tanto si guardava indietro se io arrivavo, no? Un'intelligenza formidabile. E questo si chiamava Barone di Campomulo. Mentre un altro cane mi è stato dato da Giorgio Mele, famoso Gibo, che è ancora in vita. La prima volta che ho Gibo delle Terraliane, discendente da Xerest delle Terraliane. un ruano marrone, mentre Barone era un bianco-arancio. La prima volta che ho visto un bracco italiano che salta al volo, prima un faggiano, fa una capriola e ritorna per terra. Un bracco italiano che allarga e che con radar sa già dove c'è il faggiano. Cioè fare delle giornate di caccia e portare a casa 20-25 faggiani, oppure andare a caccia e portare 10-12 beccacci con un bracco italiano, è da titolo. E questo cane Giorgio Mele me l'ha regalato perché aveva avuto un problema di salute, anzi lo saluto e gli mando un abbraccio, e merita veramente perché è stato un bracco italiano intelligentissimo. Mi ha segnato. Tutte e due questi cani qua mi hanno proprio segnato. Poi il resto dei cani, ovviamente abbiamo dei cani bravi, però che mi hanno colpito a oggi, come questi due qua, non ce ne sono più. Beh, sicuramente Giorgio è una bravissima persona, è anche competente, l'abbiamo sentito qualche mese fa. E' stato l'ospite anche lui. Senti, dimmi, dimmi. No, no, infatti con Giorgio Mele noi ci sentiamo telefonicamente qualche volta, infatti prima mi hai chiesto per il confronto, no? Perché comunque è una persona veramente speciale che si mette lì, anche se lo scocci, ti spiega per filo e per segno, e poi ho notato che ha veramente un'esperienza importante. quindi io non frequento, non ho una gran conoscenza, sai, sui cambi di terreno. Tante informazioni e tante indicazioni mi sono state date da lui. Ascolta, Mario, tu diciamo che vivi un po' tutta l'Italia, perché sei originario del sud, però vivi al nord Italia. Ti chiedo, dato che hai avuto l'esperienza di due le zone, Che tipo di persone ti hanno chiesto il bracco italiano? Nel momento in cui hai fatto cucciolate? Guarda, io nel periodo che ero da solo, praticavo specialmente cacciatori, no? Quindi il bracco italiano mi veniva richiesto solamente da caccia. E io, tanti bracchi italiani, che ho un amico, no? Io comunque sono sempre stato un selezionatore, cioè selezionavo i cani da caccia. Quindi ringrazio anche un altro amico, che tanti bracchi italiani, purtroppo non è che tutti nascono cacciatori, no? C'è il bracco italiano che va bene, il bracco italiano che era pauroso sul terreno. Quindi ho avuto di fianco a me, ce l'ho ancora oggi un amico che si chiama Paolo, che quando un cane non andava, io comunque lo davo in adozione, oppure lo regalavo a qualche famiglia e facevo il selezionatore di caccia, no? E quindi io dal 2000 al 2018 ho dato cani da caccia a tante persone qui in Veneto e anche giù in Campania e da altre parti. Invece poi dal 2018, creando questo affisso con la Carolina Pirro, ho visto che il mondo è cambiato, cioè tanti cani da compagnia, tanti cani da tartufo, ma facendo una quotazione e tanti da compagnia. Allora mi sono un po' ricreduto, no? Dico, ma scusa un attimo, ma perché non fare il cane da compagnia? Se una persona vuole tenere il bracco da compagnia, che poi il bracco, è vero che noi siamo dei selezionatori di caccia, ma il bracco italiano è un cane intelligente, chi ce l'ha lo sa. Un bracco italiano va a caccia, spazza sul terreno, va nella neve, va nei laghi, ma quando torna a casa può dormire benissimo sul divano e domani mattina lo accarezzi senza guinzaglio, perché io da quando ho bracchi italiani non ho mai avuto guinzaglio. Vuol dire che la persona lega bene col bracco italiano. Il bracco italiano è un animale, è un cane che va amato e se lo ami, lui ti ama e vai dappertutto. Quindi è questo un po' il mio vissuto da bracco italiano, no? Però comunque abbiamo visto che tanta gente ci richiede per compagnia, noi nella zona di Padova, nella zona del Veneto. Poi comunque rimaniamo in collegamento con questi nostri amici che diventano amici e vediamo che i cani comunque stanno bene, tenuti super bene e quindi ti ricredi un po', dici ma perché non fare anche il cane da compagnia, è solo da lavoro. Quindi il mercato è aperto in tutti i settori. Meno da tartufo, ma ultimamente, visto che pubblicizzate tanto bene, soprattutto te e Marco, questi bracchi italiani, vedo che abbiamo anche qualche richiesta sul tartufo. Ah no, no, sì, c'è tanta gente che sono uscite nuove discipline, c'è il tartufo che se non mi sbaglio in qualche puntata ci avevano anche chiesto in merito, c'è chi li sta usando per fare main training, la ricerca di persone, le macerie, c'è un'altra persona che li utilizzano per fare delle competizioni con biciclette, dog running, una cosa che è percorso. Sì, adesso che mi viene in mente adesso che mi viene in mente che abbiamo dato qualche bracco che li usano anche in acqua, recuperi dall'acqua, poi la Pirro comunque segue di più queste cose qua perché io sono impegnatissimo. Diciamo che nel nostro allevamento in quello che noi facciamo io mi dedico molto al lavoro e comunque a selezionare i cani per eventuali accoppiamenti mentre la Pirro si dedica soprattutto alla bellezza e alle cucciolate perché guarda, il bracco italiano è un cane che ha bisogno delle mani di una donna, veramente delle cure importanti e lei ha le mani d'oro in questo. Sì, senza dubbio. L'abbiamo dimostrato anche in qualche puntata precedente insomma. Senti, Mario, a che mese invece cedete il cucciolo voi? Allora, per mia scelta perché noi abbiamo delle richieste molto prima però comunque per mia scelta noi partiamo dai 120 giorni ai 160 giorni. Ok. Il cucciolo che vendi lo fai scegliere al nuovo proprietario oppure fate una selezione voi in modo tale da dare il cucciolo giusto per il proprietario che ritenete giusto? Allora, ovviamente, ovviamente, come tutti gli allevatori penso noi comunque facciamo una preselezione, no? Ovviamente sapendo i genitori, sapendo i soggetti, che comunque i soggetti qualcuno è del nostro allevamento oppure a volte troviamo qualche cane fuori, no? Però comunque il cane viene viene studiato, viene controllato, viene viene capito, no? sei giusto per il nostro allevamento oppure no? Quindi diciamo che dai 120 ai 160 giorni noi riusciamo a vedere l'attitudine di un cane se si avvicina a quelle prestazioni dei genitori e quindi preselezioniamo qualche cucciolo e ce lo teniamo per noi. Poi ovviamente nella vita non si ci indovina mai, magari quello che pensiamo bravo rimane un brocco e quello che era un brocco rimane bravo, come in tutte le cose. Sì ma intendevo chi viene da voi per l'acquisto del cucciolo sceglie lui il cucciolo che gli piace oppure si 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 no no sceglie lui sceglie lui sceglie lui ok e di solito ritenete che siano sempre giuste le persone che arrivano in allevamento per convivere con un bracco italiano o avete avuto anche storie poco piacevoli insomma guarda allora quando da noi viene il nostro cliente in allevamento a scegliere il cucciolo di solito notiamo che noi abbiamo degli sgambatori da cucciolo piccolini allora il cliente entra dentro e di solito si innamora dal primo cucciolo che gli va vicino oppure quello che gli recca le dita e che devo dire che io sono meno e mi informo meno ma la Carolina la Carolina è una persona che comunque si informa bene sulle persone a cui dai cani e fino ad oggi dal 2018 ad oggi non ho mai visto una persona che ci ha portato un cucciolo in dire quindi ci è capitato solamente con una persona americana un soldato che comunque avevamo dato un cane che dall'Italia si è dovuto trasferire in America quindi lì per forza di cose il cane è tornato a casa e poi l'abbiamo affidato a un'altra famiglia ok qual è il tuo tipo ideale prima l'hai accennato un po' però dici qual è il tuo tipo ideale di bracco italiano e quindi come pensi poi anche di ottenerlo allora il mio tipo ideale di un bracco italiano un bracco italiano deve essere per me un prototipo un prototipo quindi una testa bella e un tronco bello e soprattutto un cane che deve avere quelle attitudini che prima ho detto di spaziare sul terreno delle prese di punte giuste delle belle ferme e delle belle guidate da bracco italiano questi cani io piano piano in questi anni qualche prototipo lo sceglievo lo sceglievo e dai vari ah e poi una cosa importante che ho prima detto che per gli altri magari non so ma per me il cane deve montare naturalmente perché per me un cane che monta naturalmente è sinonimo di forza un cane che che fa per il mio allevamento no quindi questo è il bracco italiano e io lo cerco dai miei cani perché noi abbiamo un bel numero di cani e comunque sappiamo i difetti di ognuno sappiamo i pregi e con gli accoppiamenti che facciamo cerchiamo di fare il prototipo giusto ok arriviamo aggiungo una cosa all'altezza mi piace il cane grosso cioè il cane che deve essere al massimo del garete ok arriviamo all'ultima domanda invito tutti a fare domande qualora ce ne fossero e ti chiedo il consiglio che daresti ai giovani che si vogliono avvicinare a questa razza allora il consiglio che posso dare ai giovani è di armarsi in un bello zainotto pieno d'amore e di passione ma il consiglio importante per la razza del bracco italiano è controllargli i piedi controllargli la genetica di non fare cucciolate fatte così al pensiero di informarsi minimamente di controllare veramente queste cose per me perché selezionare e creare bracchi italiani non è facile ok va bene Mario io ho terminato diciamo le domande che mi ero prefissato inizio a leggere i commenti per il momento non vedo delle domande però iniziamo dai saluti penso che qualcosa arriverà allora ti saluta Sergio Pozzali ce ne stiamo Carolina Pirro la tua socia che dice buonasera a tutti e grazie per l'invito io ringrazio voi di essere riusciti a partecipare nonostante insomma gli impegni lavorativi di questo periodo Renato Bernardini saluta buonasera a tutti Carmelo Brogietto Antonio Lucio Casamassima Maurizio Turci Nicola Ferri dice buonasera a tutti Giorgio Mele rappresentante ti stavo ascoltando Gianpaolo Emilio Paoletti Donato Rakanati Roberta Lotta dice buonasera anche lei Giovanni Baldacci esplosione commissile Paolo Borghetti ciao Marco buonasera a tutti ciao Paolo Giacomo Tonarelli Francesco Pandolfi Dennis Consato Gino Rubino Alberto Pandolfi Nicola Peretti sono tutti saluti Silvio Todaro Sergio De Bacco Sergio Michele Giannece Marcello Gabrielli Gianni Petruzzi Maurizio Patriarca Kenny Zumba Sergio Michele Giannece cosa intendi per controllare i piedi allora i piedi del bracco italiano un bracco italiano deve essere perfetto i piedi deve avere una zeta giusta per la spinta sul terreno tanti bracchi italiani purtroppo hanno il posteriore aperto oppure hanno i gomiti aperti e quindi la selezione dei piedi di un bracco italiano è importante questo infatti caroline caroline aveva scritto sotto che non siano palmati anche sì anche palmati sì anche quello poi c'è quest'altra domanda quando si può considerare adulto un bracco italiano per te guarda eh per esperienza mia personale un bracco italiano comincia a essere considerato adulto da due anni e mezzo ok ritieni che si debba fare distinzione sessuale tra maschi e femmine c'è anche dal punto di vista del lavoro magari si dice che il maschio matura più tardi la femmina prima sì la femmina la femmina matura prima la femmina matura un po' prima però comunque io ho avuto dei soggetti poi anche lì c'è anche lì guarda c'è la femmina che matura prima c'è il maschio che matura prima quindi però io diciamo che per non stare stretto e non largo dai due anni ai due anni e mezzo un bracco italiano si può considerare maturo ok poi c'è Luigi Maggio De Maggi c'è Buonasera il bracco italiano ecco lui volevo dire una cosa su questo signore qua lui è quello che mi ha portato barone sempre alle mostre anche Maurizio Turci l'ha presentato quel barone di Campomoro no e loro lo sanno che soggetto era era un cane inconfondibile come il famoso Agamennone no un cagnone ha dato tante soddisfazioni ciao Luigi ok poi c'è quest'altra domanda è Nicola Ferri che chiede cosa ti hanno dato i due migliori cani che hai citato prima in riproduzione visto che erano bravissimi a caccia allora un cane che sarebbe barone di Campomoro purtroppo prima di morire sono riuscito a fare l'ultima cucciolata mi ha dato un maschio e una femmina e solo solamente due cuccioli in maschio e la femmina sono venuti fuori i due cani che attualmente io ho nel canile sono uno spettacolo sono uno spettacolo adesso hanno circa un anno e mezzo un anno e sei mesi e ancora non sono al top però veramente sono dei soggetti che promettono bene e sono contentissimo la mamma di questi cuccioli è una femmina di Dennis Ponsato che gli faccio i complimenti si chiama adesso il nome non me lo ricordo comunque una bella femmina una cacciatrice e una bella femmina diciamo che da barone è venuto fuori due veramente dei cuccioli dal gibo purtroppo un gran cane ma come ho detto prima mi ripetisco un cane che non monta da solo io non faccio accoppiamenti quindi il gibo purtroppo non ho mai accoppiato ok Nicola Peretti ti chiede a che età secondo te è la prima cucciolata guarda noi la prima cucciolata con una femmina la facciamo sempre intorno ai tre anni ok sì è importante Nicola arrivare sicuramente alla fine della crescita la maturità di un anno sì e anche maturità cioè non solo maturità fisica ma anche maturità mentale perché comunque è un bello stress per la fattrice mantenere la cucciolata quindi e comunque bisogna controllare i calori non prima del secondo calore per questione di benessere animale non si dovrebbe farle accoppiare e poi Renato Bernardini per la caccia cosa preferisci maschio o la femmina? guarda sulla caccia per me allora il maschio è più lento è più forte ovviamente la femmina la femminina è più delicata no però io preferisco tutte e due tutte e due perché io comunque ho soggetti femmine e soggetti maschi una cosa importante che voglio dire sulla caccia almeno per esperienze mie vissute io non vado mai a caccia con due bracchi io vado a caccia con un solo bracco e nella mia esperienza in questi anni ho sempre visto che un bracco solo ti dà tutte le due soddisfazioni del mondo quando sono in due si trascinano giocano e se un cacciatore vuole soddisfazione rimedio ad andare a caccia con un solo bracco adesso a prescindere da maschio o da femmina i soggetti addestrati i soggetti che vanno a caccia comunque sono vari di tutti e due ovviamente il maschio è più forte a più sostanza Marco non ti vedo più un attimo ho avuto ho avuto problemi di connessione io scusa mi stavi dicendo perché forse non ti sentivano neanche loro dato che era andata via la mia connessione chiedeva a Renato cosa preferisci il maschio o la femmina mi vedi? si 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 ti vedo e ti sento ok no perché mi dice di avviare un attimo solo ecco qua allora io magari non ti vedo più tu mi vedi? si beh diciamo è caduto Mario scusate per una volta ho avuto problemi di connessione io però diciamo eravamo abbiamo finito le domande stavano solo sono solo le domande del pubblico quindi comunque Mario dovrebbe ritornare dovrebbe essere stabilizzata la mia connessione quindi a breve dovremmo esserci un attimo solo un attimo di passione volevo rispondere un attimo io a 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 quando si può considerare un bracco italiano il bracco italiano sicuramente come tutti i cani a due anni abbiamo la fine della della crescita completa e totale per quanto riguarda la crescita fisica però io quando considero adulto un cane mi piace considerarlo adulto anche mentalmente è chiaro che un cane che fa esperienza durante la sua adolescenza durante la sua crescita cresce anche mentalmente un cane invece cresciuto in un ambiente sterile privo di stimoli mentalmente non ci cresce quindi per me un cane adulto quando è adulto fisicamente e mentalmente e molti cani invece che si che noto lo sono solo fisicamente mentalmente bisognerebbe lavorarci un po' di più però ecco diciamo che eh sempre meno ci sono cani relegati in box eh penso che insomma tutti noi soprattutto le nuove generazioni che abbiamo la possibilità dovremmo essere giovani in salute li portiamo fuori li facciamo fare vita dignitosa io un attimo solo stoppo e provo a chiamare Mario perché vedo che non si sta collegando più vediamo che è successo grazie a tutti allora signori ho sentito Mario gli è partito l'aggiornamento al computer quindi un attimo solo proviamo a farlo collegare dal cellulare ok tra poco dovremmo averlo di nuovo tra noi senza se ne sento allora poi do mio parere su questa domanda qui di Renato Bernardini a che età si comincia a portare il cucciolo a caccia io ritengo ecco è tornato Mario ok perfetto Mario scusami scusami tu perché prima è andata via la linea quindi l'importante ci abbiamo fatto niente non so se dovevi aggiungere qualcosa a questa domanda se preferisci il maschio o la femmina allora io come ho detto prima per me i soggetti sono tutti e due tutti e due buoni cioè o il maschio o la femmina ovviamente abbiamo delle attitudini diversi la femmina è più delicata il maschio è più irruento però comunque io a caccia ho sempre sia l'uno che l'altro e vado a caccia sempre con un bracco solo mai in coppia mai ok poi abbiamo Nicola Ferri che ti scrive personalmente vista la bravura del cane l'avrei aiutato nella monta credo che parli del cane il secondo cane che hai citato io la mia ottica non è quella io voglio un cane che debba fare tutto quindi sono molto selezionatore e pignolo su queste cose qua quindi le dico il gibo tanto di cappella dottor Mele è un cane io l'ho nominato superman quindi è un cane fantastico però non riesce a montare io non ci ho provato senza togliere niente al cane o altre cose sono idee mie capito personali certo certo marcello gabrielli ti chiede sull'emanazione sul selvatico a che distanza dovrebbe fermare per considerarlo tipico del bracco e verso che età si può definire finito l'addestramento atto a migliorare il soggetto allora l'emanazione l'emanazione io ho avuto bracchi italiani che comunque emanazioni oddio anche a 15 metri sentivano l'emanazione e poi il bracco italiano guida no? guida ovviamente il selvatico cammina e quindi ci sono delle guidate da 20-30 metri però io ho avuto dei bracchi italiani che hanno un'emanazione a 15 metri di distanza poi alcuni ce l'hanno anche a 2 metri dipende dal cane i due soggetti che io ti dico il Gibo e il Varone dai 15 ai 20 metri di distanza uno spettacolo poi non ho seguito in fondo cosa c'era scritto per rispondere no e poi ti chiedo a che distanza dovrebbe fermare risposto per considerarlo tipico verso che età si può definire finito l'addestramento atto a migliorare il soggetto due anni e mezzo di età ok ok poi Renato Bernardini chiede a che età comincia a portare i cuccioli a caccia io i cuccioli li porto a 90 giorni già da piccoli io vado in mezzo ai campi io vado in mezzo ai campi ci gioco loro mi corrono dietro come se fossi la mamma nelle stoppe nell'erba medica gli butto delle quagliette ti dico che ho dei soggetti ho avuto dei soggetti che a 60 giorni già sentivano il profumo delle quagliette ok poi è arrivato per ultimo Aldo Salvione che saluta buonasera ciao Aldo Mario credo che abbiamo terminato perché non ci sono altri commenti io ti ringrazio nuovamente di essere stato con noi mi scuso per il disagio avuto prima è la prima volta succede anche a me purtroppo di questi tempi le connessioni sono un po' traballanti e nulla ti ringrazio e con la speranza di vederci al prossimo evento prossimamente senz'altro grazie a te e a tutti va bene ciao Marco grazie Mario ciao buona serata buon lavoro soprattutto allora signori abbiamo liberato Mario Criscuolo un ristoratore quindi di questo periodo una categoria abbastanza colpita dal covid e nonostante tutto ci ha dato la disponibilità per fare questa intervista questa sera quindi ringrazio doppiamente Mario per la sua disponibilità tra l'altro in un orario in cui sono in piena attività lavorativa quindi di nuovo grazie per la disponibilità che ci ha dato grazie anche di aver lasciato il suo contributo nel nostro lavoro nel nostro progetto che si sta espandendo sempre di più sia un po' perché c'è sempre più gente che ci guarda e anche perché penso e spero che stiamo lasciando qualcosa a tutti voi braccotidi io vi do appuntamento al secondo giorno della settimana quindi a giovedì l'unica cosa che potrebbe slittare a venerdì ora dobbiamo vedere bene con la nostra ospite quale dei due giorni sarà disponibile però vi faremo sempre sapere con le sue isole locandine vi auguro una buona serata quindi e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao